Due dei miei migliori amici sono commercianti, sono Luciano Imbriani e Mauro Peloni. Commercianti è una parola grossa, ci vuole testo e braccio per essere criticato. Però l'hai viste le scritte fuori del negozio di Mauro Peloni che sono sulla scia del film di Checco Zalone, Quo Saldo? Mauro ha sempre delle belle idee, gente si è presentato, non lo so Luciano, ha bisogno di dire la verità, io sono stato lì davanti e ho visto che gente è andata alla cassa e gli ha detto mi fai due biglietti fratea, l'ho visto io con i miei occhi e ha visto che c'è quella cassa appena entri subito e un altro gli ha detto scusi è che si sta tutta a sedere in questo divano per vedere il film, non è possibile. Mauro è stato furbo eh, come si dice un volpino eh quel Maurino. Però un po' ti da noia questo fatto, che lui abbia sempre queste idee. Due volte l'anno. I saldi sono due volte l'anno. E lui dice stranissimo che il cervello gli andrebbe due volte l'anno, sicché deduco, posso dedu, due volte l'anno, sicché automaticamente lui ti deve capire, ha il cervello a riposo per il resto del periodo, sicché si sviluppa due idee, anche se dice, dicono eh, che tutto sia la paura. Dice che il cervello è la paura, non c'è niente da fare. A questo capitano tante coppie che inizierebbe, perché te pensi di essere il cervello a casa tua? Il cervello no, però... Il capo? Il capo sì. Se ci fosse il cervello... Se ci fosse... ma lo sai qui dentro? Ma vero, vero. Senti, ma perché questa scrittina striminzita, saldi, ci vuole binocoli? Manco tu vedi i binocoli. Nella tua vetrina. Saldi, perché sembra tu abbia paura di farli. In effetti, un pochino, a noi, se la gente venisse qui, dice quanto costa questa giacca? 200, però sai, devo dire, bella, ti sei comportato bene, tieni, 250, non mi è mai capitato. No, 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 no. È strano perché... È stranissimo, stranissimo. Questa è una cosa stranissima. In banca, in banca gli riuscivo a farlo. No, ora in banca sì, in banca sì, perché te dici dei depositi... Comunque, anche se non si vedono i cartellini, fa i saldi anche lui, eh. No, faccio no che faccio i saldi, faccio i super saldi. Però ricordatevi... Dal... Dalla mattina alle 9 fino alla sera, le 7 e mezzo. A volte anche le 8, però ricordatevi che vi stupirò. Basta. Ricordatevi che vi stupirò, eh.